Mi sono preparato per il mio esordio professionistico per assurdo allenandomi e prendendo peso Questo perché da professionista c'è il taglio peso Io già gareggiando alla categoria più bassa che era la 57 Dove ho 57 kg, ho necessità di prendere del peso Altrimenti avrei gareggiato con avversari di 5, 6, 7 kg di più che comunque si sentono Spieghiamo un ottimo questa logica perché magari chi non segue l'MMA c'è un po' di difficoltà nel capirla Il perché te appunto pesavi 57 kg, dovevi prendere peso per poi perderlo Esattamente, c'è questo perverso schema nell'MMA professionistico dovuto a tanti aspetti Che se dovessi elencarli tutti staremo ora a parlare Quindi lasciamo stare un'altra parentesi e li diremo in un'altra puntata ancora E diciamo ci sono mille motivazioni per le quali il peso viene fatto il giorno prima Ok? Ok Il peso viene fatto il giorno prima Facendo il peso il giorno prima Dell'incontro Dell'incontro Esatto Il giorno prima in cui tu devi combattere Vai a fare il peso Questo fa sì che tu poi hai circa 30 ore per recuperare il peso Ok? E dunque si è andata a creare questa consuetudine del taglio peso Ovvero persone che in 30 ore vanno a recuperare anche più di 10 kg Non è il mio caso ma anche più di 15 addirittura Che succede? Che ti ritrovi appunto a gareggiare, a combattere contro una persona che in realtà non pesa Esattamente Per quanto effettivamente è verificato sulla bilancio Che poi è una cosa che è un danno solamente per l'atleta Perché? Noi atleti non vorremmo nessuno di noi fare il taglio peso Sono veramente pochi gli atleti che vorrebbero fare il taglio peso Perché magari giocano proprio su quello che è il loro punto di forza Che magari tagliano 15 kg e l'avversario 7 Ok? Ok? Perché alla fine combatteremo tutti allo stesso peso È una fatica inutile fare il taglio peso Perché tanto tu sai che anche il tuo avversario lo farà E quindi siete costretti, siete vincolati tutti e due a fare un taglio peso Per cosa? Per tanto combattete allo stesso peso A questo punto non lo facciamo il taglio peso No? E ci togliamo una settimana infernale Perché il taglio peso è una cosa infernale Che non augurerei nemmeno al mio peggior nemico Prima di parlare del taglio peso vorrei chiederti Come prepari il match? Ancora le settimane prima del taglio peso E poi arriviamo alla settimana in cui appunto tagli questi chili Allora Per quanto riguarda le settimane prima del taglio peso Bisogna fare un Bisogna fare dei lavori differenziati Ovvero Non ti immaginare tre settimane tutte uguali Ok? Sono tre settimane molto diversificate Perché ci sono delle settimane in cui si creano dei picchi Quindi settimane di stress pazzesco anche a livello fisico Oltre che mentale E delle settimane più tranquille Ok? Quindi è un continuo sali e scendi di picchi In cui per assurdo Si scema un pochino Verso il finale Perché uno deve evitare di crearsi degli infortuni E di stressarsi eccessivamente Visto che si va incontro alla settimana del taglio peso Che è la settimana più dura della vita di un qualsiasi atleta professionista di MMA E essenzialmente cosa si fa in questo taglio peso? Perché è così estremo Allora Dipende chiaramente quanto tagli E c'è Purtroppo Per arrivare ad alti livelli Bisogna tagliare sempre Non sempre più Ma bisogna tagliare delle quantità importanti di peso Ora non dico sempre di più Non bisogna tagliare Non è che più tagli più diventi forte No eh No Bisogna tagliare il giusto Mi sono corretto Però il giusto è comunque elevato Il giusto è comunque molto di più di quanto si dovrebbe fare E praticamente è una settimana in cui mi alleno due volte al giorno E fin qua nulla di particolare Però ho affiancati questi due allenamenti giornalieri Da una dieta che prevede zero carboidrati Zero sale Ora senza che la vado a spiegare È una dieta terribile In cui praticamente non mangio niente E ti porta a disidratarsi E delle quantità di acqua Anormali Che possono andare dagli 11 litri in un giorno 9 litri in un giorno Fino ad arrivare poi al ridosso del match A più di 30 ore In cui non bevi per niente Prima del match Prima del peso Prima del peso Del wake in Che c'è il venerdì solitamente Prima del wake in Circa 30 ore in cui proprio non bevi Tu arrivi a fare quei due allenamenti al giorno In cui sei già disidratato In cui devi sudare tantissimo E anche questi sono accompagnati da delle saune O comunque dei procedimenti per perdere liquidi Mettersi in delle coperte di lana D'estate Ok ci sono mille modi per sudare E si fanno tutti e mille Per arrivare al peso giusto Del wake in E non ti nascondo Che più e più volte Mi sono sentito male Io ma come tantissimi altri fighter Perché è una cosa Estenuante Che il fisico non dovrebbe mai Sopportare per nessuna ragione E però diventa normale La cosa assurda È che poi diventa naturale farlo Diventa normale Ma a lungo andare Hai mai saputo Se porta effettivamente Magari a qualche Malessere Malore Sicuramente bene non fa Bene non fa Non può far bene Fa male ai reni Chiaramente fa male Questo è ovvio L'ha fatto una volta Per il match Non lascia Diciamo che non lascia Strascichi drastici Se viene fatta appunto Con Dilazionata nel tempo Non viene fatta Tutti i mesi No Ed è anche per quello Che non si combatte Di MMA Una volta al mese Da professionista È un po' diverso Da magari Chi segue lo sport Da combattimento Sa che Tipo nel pugilato Si combatte molto Certo Certo È diverso Molto differente Certo E C'hai un'aneddota Una storia Appunto del taglio peso Che vorresti raccontare Per far capire Quanto in realtà è difficile Quante cose non si vedono Al di là dell'incontro Eh Certo Perché Uno vede solo il match Esatto Vede È andato bene È andato male È andato così e così Ha perso Ha vinto Esatto Ha perso e vinto Magari quel match Stava lì lì No Magari Si vince o si perde Per split decision Per un nulla Però no Quello ha vinto Quello ha perso Quindi E non si va a vedere Tutto quello che c'è dietro Che è Un iceberg Pazzesco Non dico che è Più importante Oppure più affascinante Però è un lavoro Che porta Quotidianità Una frequenza Assurda Che non si vede Sì 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 Viene visto nulla Di quello che poi in realtà Viene fatto davvero Un aneddoto Fondamentale Diciamo Divertente Sul taglio peso È stato il mio match Contro Angulo Che mi sono ritrovato A Un'ora e mezza Dal peso ufficiale A stare in sovrappeso Dovevo perdere Due chili Che non è tanto Due chili Se parliamo del taglio peso Nel suo complesso Generale Non è tanto E non è neanche tanto Da perdere in una giornata Il problema è perdere Due chili Quando sei già Disidratato Completamente Quindi il tuo corpo Non Non emette più liquidi Ok Quando sei già Disidratato Il problema è farlo In un'ora e mezza Perché se tu mi dici Hai un giorno Per perdere due chili Io mi metto Un quarto d'ora in sauna Poi esco Mezz'ora in sauna Poi esco Mi faccio una corsetta Un modo lo trovo Se hai un'ora e mezza Per perdere due chili Ti metti un'ora e mezza In sauna Un'ora e mezza Sono stato un'ora e mezza In sauna Uscendo dalla sauna Ogni Dieci Quindici minuti Solo con la bocca Per respirare Ma non uscivo io Con le mie gambe E mi trasportavano Perché non avevo più L'utilizzo Né delle gambe Né delle braccia E mi portavano A respirare fuori Appunto dalla sauna Un Venti secondi Massimo E mi riportavano dentro Chiaramente c'è un equip dietro Mi stavano sentendo il battito E Ero controllato Ovviamente Però è una cosa pericolosissima E non riuscivo più a muovermi Io dopo soli Cinque minuti di sauna Già mi formicolavano le mani Poi hanno cominciato i piedi Poi non ho più mosso le braccia Poi non ho più mosso le gambe Sono arrivato a un certo punto In cui non mi muovevo più Lo stimolo Me l'ha dato vedere il mio avversario Angulo Venire in sauna Io pensavo Dico ormai non ce la faccio più Stavamo in sauna insieme Stavamo in sauna insieme Prima dell'incontro Io sono uscito fuori Più che sono uscito fuori Mi sono fatto portare fuori Perché ero finito Ok Ero Dico ora muoio Devo respirare Sono uscito a respirare Ho visto il mio avversario Entrare in sauna Mi sono fatto spronare Appunto Dallo spirito agonistico Che ti descrivevo prima E ho detto No non esiste Cioè lui sta in sauna Io no Non esiste Pure che è entrato adesso Io arrivato in sauna Mi sono fatto l'altra mezz'ora di sauna Che mancava Insieme a lui Insieme a lui Ma a quel punto Io non mi rendevo conto di niente A quel punto Io vedevo un'ombra Lui mi diceva cose Io non sapevo che mi stava a dino Gli rispondevo Forse mi avrà anche pensato Come maleducato No Però non mi rendevo conto di nulla E alla fine ce l'abbiamo fatta Quello che non va Perso di vista È che in realtà Siamo due atleti Che sanno I sacrifici Che ha fatto l'altro Perché come stavo io in sauna Ci stava pure lui Uno sa i sacrifici Che vengono fatti Per preparare il match Per arrivare in un modo Al match Per Ci sono mille cose da fare E quindi il rispetto C'è sempre E quello viene sempre fuori Dopo il match Dici che è solo Ovviamente È solo show E business Però secondo me Non ci deve essere Tipo L'esagerazione Non ci deve essere L'esagerazione Fin qua siamo d'accordo Però ci sta anche Che ci sta Ci sta È giusto D'altro tu stai per andare a fare A cazzotti con un uomo Quindi è giusto Che ci sia Entrano in gioco Anche tanti fattori psicologici È bello questo sport Perché diventa Uomo contro uomo Ma sotto tanti punti di vista E non è solo il punto di vista fisico È anche quello mentale E talvolta appunto Oppure quello psicologico Pre match addirittura O durante il match Magari fare un sorriso Durante il match Può cambiare l'esito del match In meglio o in peggio Perché dipende E due Grazie a tutti.